Sabato 11 aprile alle 20.30 la Cattedrale di Castellaneta ospiterà il Risorto, uno spettacolo musicale sulla passione e resurrezione di Gesù, messo in scena impeccabilmente dagli instancabili ragazzi dell'Oratorio Dio e Patria di Castellaneta. Il musical, come detto, racconterà la storia della passione e resurrezione di Gesù di Nazareth, dal suo ingresso a Gesù Saleme, osannato dalla folla, passando per l'arresto e il processo da Ponzio Pilato, la via verso il Golgotha, la crocifissione e la morte fino al momento più atteso, quello della resurrezione. Il tutto racchiuso in uno spettacolo di 55 minuti, diviso in 13 scene e 13 relative canzoni, registrate direttamente dai ragazzi stessi, protagonisti di uno spettacolo destinato a restare a lungo nella mente dei castellanetani. Siamo andati a trovarli in cattedrale durante le prove generali del loro spettacolo. È difficile fare la parte di Gesù perché è un uomo molto importante. Dove ringraziare anche le mie catecheste, agli educatori che mi hanno aiutato a realizzare questa parte. È stato un musical impegnativo, comunque molto emozionante. Ci abbiamo messo tutti noi stessi per realizzarlo e siamo contenti di mostrarvelo. La parte che mi ha colpito di più è stata l'ultima canzone, ovvero Gesù risorto, che appunto parla della resurrezione e che quindi è la realtà che viviamo oggi, che è la dimostrazione che Gesù è con noi. Abbiamo visto un musical a Massafra, il risorto, però a dire la verità, quando abbiamo visto quel musical ci siamo resi conto che non era proprio per noi, nel senso che questo musical è un po' impegnativo, anche perché interpretare Gesù e tutto quello che sta dietro alla storia della passione e della risurrezione di Gesù non è stato facile. Però appunto i componenti dell'oratorio di Ue Patria sono veramente imprevedibili. Sono usciti fuori dei carismi eccezionali, sia dal punto di vista recitativo, dal punto di vista canoro e quindi dal punto di vista anche del service, che per questo musical non ce ne serviamo di altri. Ci sono i nostri ragazzi che appunto sono veramente eccezionali. Noi attraverso il musical cerchiamo sempre di avvicinare i ragazzi a Gesù. Il nostro obiettivo è quello, quello è proprio di renderli consapevoli di avere un amico eccezionale che è Gesù. Quindi attraverso questo musical il messaggio è proprio quello. Però anche con i musical precedenti abbiamo attraverso la vita dei Santi raccontato quanto è importante la fede, quanto è importante Gesù.